C'è spazio per andare, Royce, che vira, si avvicina all'area, bella Rabi, è un gol importante Adesso hanno da gestire la situazione Guaragna metri verso l'area, non può sbagliare, è arrivato dunque il gol del parete Chiedira Siamo avvicinati all'area, bella Rabi, è un gol importante, adesso hanno da gestire la situazione Guaragna metri verso l'area, non può sbagliare, è arrivato dunque il gol del parete Grande caparvietà, hanno voluto davvero questo gol con tutte le loro...